Sono Ahmed Shokhi, vengo dall'International Socialist Organization negli Stati Uniti e sono molto contento di essere qui a questa assemblea fondatrice. Prima di tutto sono colpito dalla somiglianza dei problemi che abbiamo e anche nonostante il retroterra sociale e storico diverso che abbiamo. Cerchiamo di stabilire e sviluppare dei rapporti con la sinistra anticapitalista. Per questo siamo in Italia. Dieci anni fa ancora l'Italia era il centro di una enorme dimostrazione. Molti di noi degli Stati Uniti parteciparono. Abbiamo speranza anche nella soluzione dei problemi sociali qui in Italia e in Europa. oggi. E così il nostro più caldo saluto e la nostra solidarietà e auguri per il successo dell'assemblea e per il lavoro futuro, per il movimento sociale dei lavoratori in Europa. che il loro futuro è completamente legato al nostro futuro. Da parte nostra porteremo a casa il messaggio da questo congresso di mantenere e sviluppare le nostre lotte negli Stati Uniti. In effetti. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Ciao! 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 Ciao!